Parte da domani, martedì 15 ottobre, la possibilità di richiedere agevolazioni sul pagamento delle bollette di rifiuti acqua negli uffici dei centri per l'impiego della provincia. Le richieste si andranno ad affiancare alle azioni di microcredito e trasporto scolastico già in vigore. Lo ha comunicato il presidente Matteo Ricci, ricordando il proseguio delle misure concertate assieme a sindacati e comuni che hanno interessato in quattro anni più di 3.000 famiglie. La novità è che per acqua e rifiuti il finanziamento è di natura diretta, arriva ovvero dall'ente erogatore con una gestione in house fino alla concomitanza della somma stanziata. Si tratta di 100.000 euro messi a disposizione da marche multiservizi e 20.000 da ASET. I destinatari sono i disoccupati dopo un licenziamento per giustificato motivo o anche dimissione per giusta causa, disoccupati dopo scadenza di contratto a termine, collocati in cassa integrazione con guadagno ordinario o straordinaria o sospesi dal lavoro per almeno 160 ore effettuate al momento della domanda. Infine rientrano anche gli interessati da una riduzione forzata dell'orario di lavoro in misura pari o maggiore del 30%. I limiti reddituali invece sono un ise attualizzato pari e inferiore a 15.000 euro. Il contributo economico è di 300 euro con un ise pari inferiore ai 10.000, 200 euro tra i 10.000 e i 15.000 euro. Il bonus massimo autorizzabile per ogni richiedente è di 300 euro e poi facoltà dell'utente decidere la ripartizione della somma tra utenze di acqua e rifiuti. L'agevolazione sui trasporti invece è da intendersi a parte e quindi si può richiedere in aggiunta. Il bonus massimo non può essere autorizzato più di una volta nei 12 mesi successivi dalla data dell'ultima richiesta. Le informazioni sui documenti da presentare al momento della domanda possono essere richiesti agli uffici del centro per l'impiego della provincia.